Devi sopportare, perché altrimenti che cosa fai? Spasci una famiglia? No, te la vai! E in quei tempi era questo il consiglio. Poi, delle madri, no? E poi cosa succede? Succede che magari questa si imbattisce di un principe che con una carezza la fa svegliare, la fa svegliare, e Tano non la prende tanto bene, no? Nel peggiore dei casi la ammassa, però aveva il diritto negli anni 50, c'era una legge che consentiva a Tano di poter fare ciò. Oggi l'uomo Tano è talmente accecato dalla rabbia e dall'era che non solo ammassa la moglie, ma fa fuori pure i figli, perché per sparare ci vogliono forse coraggio. Ma la cosa più importante da chiarire è che dietro ogni uomo Tano c'è una donna macia che non molla. E figlio mio, tutti i figli per le bottane sono. C'è solo per sua macia, c'è solo per sua macia, per sua macia l'amore più grande. Tutto è bottane, sì. Tutto è. Era saputo sentire Tano manciamina. Chiaro, no? Dì, chissà, ma c'è? Sampina la marchisa, c'ha resi più decenni. Cosa c'è di più bello e profondo dell'amore di una madre? Un vero lorara che a chi orna sta calzatina di scudo e di fraggia Cosa c'è di più bello e profondo dell'amore di una madre? Cosa c'è di più bello e profondo dell'amore di una madre? Cosa c'è di più bello e profondo dell'amore di una madre? Ma con l'amo c'ha davo l'antano No, no, tu, perché la cucina c'è il cavolo E vi chiamo domande che è stanco Sa tagliare un gran bregno e ci aggiungo un pevato La, 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 la Ma con l'amorità la esperanza che alza le spalle in bambini la grazia nativa di penitenza con una fiamma rigiuta riversa potessi un principe agevani carizza un metà cinghista russi e chiari ma gonzamo e c'ha davo l'antano accattando c'è l'è piena guaglia al mercato entusiasti abbattemocci mano e sbalari ci vogliono forza e coraggio e gonzamo c'ha davo l'antano non sarò più perché la cucina c'è cavolo entusiasti abbattemocci mano e fai ci vogliono pinnetti d'acciaio e c'ha davo l'antano e c'ha davo l'antano non sarò più perché la cucina c'è cavolo e mi diamo domande che è stavico di sparare migliaia di metri in fai di lavare i mutande sano e sano sano e sano non sarò più perché la cucina c'è davo l'antano la 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 la... la 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 la... La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la